Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIP-Lay dove ci sono code per viabilità esterna che non riceve in uscita l'Astra Signa provenendo da Firenze. Attenzione alla neve sulla statale 12 della Betone e del Brennero tra Cutigliano e Dogana Nuova e sulla statale 63 del Valico del Cerreto tra il Valico del Cerreto e Acquabona. Prevista neve in A1 tra Sassomarconi e il Bivio con la variante di Valico e in A15 tra Fornovo e Pontremoli. Nevischio in A1 tra il Bivio con la variante di Valico e Aglio e tra Aglio e il Bivio con la variante di Valico sulla statale 12 tra il Valico della Betone e Maranello e sulla 64 Porrettana tra Pavana, Pistoiese e Marzabotto. In A1 attenzione al personale sulla strada per lavori tra Chiusi Chianciano e Fabro in entrambe le direzioni. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!